Buongiorno, sono Albinia 620 presse, facciamo impianti per automatizzare le presse, fino a materiali di grosso spessore, larghezza 2000, spessore fino a 12 mm, partendo anche da 0-5 mm. Attualmente stiamo specializzando in impianti per inservo presse. Abbiamo realizzato questa fiera per avere un incontro con i vari clienti che abbiamo.